E' stato bello essere in così ottime mani. Mi ha fatto piacere tornare da protagonista di Indiana Jones. Sono contento della tecnologia che si è evoluta al punto da non essere soltanto un Photoshop. Sono proprio io trent'anni fa. E' incredibile. Non riesco a capacitarmi di come si faccia ma mi sono trovato molto a mio agio. Ho pensato che fosse una grande opportunità. E' tutto un DJV quando hai la mia età caro mio. L'intenzione del film era quella di descrivere questo personaggio derubato della sua giuminezza, derubato del suo vigore, come dire, offuscato dal suo incarico di professore che insegnava probabilmente un corso obbligatorio a cui nessuno era molto interessato. Ed è stato fantastico avere questa sceneggiatura brillantemente costruita e avere tutto il sostegno dei meravigliosi attori che avevamo. Phoebe in particolare è stata una rivelazione. E il rapporto tra questi due personaggi è ovviamente alla base di tutto. E quindi mi sono sentito a mio agio e sicuro fin dall'inizio. Davvero un ottimo casting.